Wow, super kill! 50 euro! Raga! Stai in regi mod totale! Super Saiyan Blue! Pure la musichetta di Dragon Ball! Un presente! E lo spacca tutto! 50 euro! Per me non si ferma, eh! Fermati, bro! Non te ne passare, zio! Ci ha donato 80 euro così, la tirati! Grazie caro, gentilissimo, un abbraccione gigantesco! Bacini per te, la gang non si infama! OMG ragazzi, allora fermi che dobbiamo giocare! Allora, la traiettoria ci sta sia per parco che per pinnacoli, not bad! Comunque è inquietante questa musichetta, è strana! Sì, è vero! È carina però è strana! E non è carri gelati! Una base rap! Se arriviamo all'ultimo metti prima la canzone! Sì, sì, la mettiamo tipo prima dell'ultima kill! Ah, due alla casa col sotterraneo e due alla casa moderna! Io vado a quella col sotterraneo! Sì, anch'io! Vabbè! Io vado a moderna! Ma cosa sono i palloncini? Oh, ce n'è qualcuno che è sceso adesso! Adesso sono i palloncini! Dove è sceso? È sceso sopra il tetto della casa, mi so! Sì, ha preso molto! Questi palloncini è morto perché c'ha 10 di vita! Dove è scappato? Fatta la vita! Ok, è easy! Raga, ma i palloncini cosa servono? No, niente! Credo sia una missione via avanti, forse! Però non l'hanno messo ancora! Vai lì davanti, raga! C'è uno là davanti! Sì! Io sono sempre fatto il nonno! Lo vedo, lo vedo, lo vedo! Lato! Chi era sto lag assurdo? Eh, ma pure me! Mi tira certe botte di lag, incredibile! Allora, spartano da altre parti, mi sa! Allora, non so! Oh! LOL! Ma dai, mi ha fatto con la revolver! Cioè, incredibile! E continua a farmi con la revolver! Terrato! Un ninja! Ma poi due colpi li ho presi tutti e due in faccia! LOL! Questa è un pompa in più! Sì, 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 io ce l'ho! Vieni! Dipende! Dove? Vabbè! Lasciate! Grazie! Anche Cildini! Sì! Venga! Grazie mille! Raga, qua c'è un po' con Miki! Arrivo! Miki! Ah, c'è stata tutta altra! Ah, no, sta qua sopra! Un po' lontanucce! Sì, infatti, raga, occhio! Ci ne possiamo andare anche in safe! E dobbiamo assare sopra sponde! Che spiega! Andrei a vedere se c'è un portale! Sì, ci sta! Ok, tu va qui! Sì, sì! Ci siamo tutti? Sì! Vai, buttatevi! Aspetta, dai! A bombazza! Ok, vediamo un attimo... Non c'è nessuno! Ah, raga, ma... La paracaduta è troppo ingambrante! Oh, ne vedo! Ha spaccato a su destra! 120 qua sulla riva di sponde sono due! Sotto a me proprio! Vai, mi catapulto! Ah, qua sotto, sì! No, stavo per cadere! Ma dai! Ok, li ho visti! Vai, ve li fate easy! Dai, guarda il labio! Ok, è un atterrato! Non c'è stato fermo! Ce n'è un altro, raga, attenzione! Ah, sta dentro l'acqua! Come è dentro l'acqua? Atterrato! E ce n'è un'altra ancora! Ce n'è un'altra ancora che sta cecchinando? Sì, sì! Cecchinato da a sud, tipo! Ok, ne ho visto uno giù in fondissimo, proprio! Ah, sempre a sud! Preso allo scudo! Ah, ok, sono su destra, non ho un team! C'è un team, c'è un team! Atterrato uno! 46 all'altro! Sta buildando! No, non riesco a prendere, l'ho smirato! Vai, Dato se lo puscia! Oh! Oh! Manco Matrix la schivava quella! Che colpo! Ok, easy! Ci sono! Sì! Gang! Ok! Chiamate, raga, se vedete qualcuno! Sì! Ok, no! Sto scherzando! Ok, no! Ok, no! No, ho visto qualcuno, veramente! Secondo me è accorto che c'è qualcuno, raga! Siete molto più avanti di me! Sto lontanissimo! Beh, io sono sceso qua! Ok, sì, stanno cecchinando, sono a sud, estra, sopra la montagna! Mi raggiungo! Dai, mi devo fare una scampagnata da solo, ma sto indietrissimo! Ma hai preso il rift? Sì! Però sono sceso male! Mighi è giù! Arrivo da tu! Raga, forse li prendo da dietro, eh! Ha fatto, ha fatto, ha fatto! Ah, ok! Bene, bene! Chi è con la minigab? Raga, ma la cazzo! Ce ne sono altri, ce ne sono altri! Ce n'è uno! C'è un cespuglio! Buoni tutti? Buoni che mi faccio il cespuglio! Vai, canzoncina! Canzoncina! Eh, non posso metterla adesso! No, vabbè, questo mi ha fatto 20 volte! Quanta vita c'è? No, vabbè, il P90! Mi ha bruciato! Eh, mi ha fatto! No! Sono out! No, sono caduto! Segui la vostra, raga! Dai, erano in due! Ci sono andato anche in quel modo! Ma che pollo sono! Avevo quattro kill! Te lo fai easy! Sta lì dietro, gli ho tolto anche un botto di vita! Ma quanti sono? Sono due cespugli? Sono due, uno con un cespuglio o non ho? No, dai, lo stavo tirando c'è quattro! Dai, ma che pollo sono! Vabbè, erano un abbe! Il P90 è incredibile! Aspettami! Vai, zio! PG! Occhio, sta sotto! La minigun! Ok, bravi, bravi, bravi! Non sono andati giù subito, quindi... Ce n'è un altro! Dietro! Sto followando Mighi, lo vedo bello in forma! Ok, vai! Che te lo mangi! Mamma mia, Mighi, ragazzi! Mamma mia, Mighi! 3 contro 5! No, 3 contro 6! Ok, ti va! Vado a finire la stia di facciamo le rampiare! Mi puoi dare la... Davi il colpi mitraglietta! E gli shieldini! Ok, quello sta probabilmente da solo, lassù! Sto guardando Dato! Droppate! Droppate qui, Mighi! Sì, arrivo! Sto prendendo la benda! Di atto di te, proprio! L'hai visto? Vai! Sto prendendo la... Vada, la mano ha dato! Se l'ha giocata... No, 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 no! Grande! Bella buildata! E questo non è male per niente! C'è neanche un altro, eh! Ce l'ho un altro sulla destra! Occhio, Dato! Non sporgerti troppo! Sta lì sotto, eccolo lì basso! Bravo! Aia! Una terra! Grande, sorti! Ok, se lo fa Mighi! L'hai visto, Mighi? Sta lì sotto! Uno, due, tre, quattro! Bene! Bravi, 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 bravi! Peccato che non ci sono io! Sto rosegando! Sto rosegando! Vabbè! No! Sbam! Tanti auguri di buon compleanno! Regalini da Mighi! Sbam! Due davanti! Due davanti! No! Sì! Vai che è morto, vai che è morto! È riuscito a prendere in tempo lo scudino! Dai! Lo scildone, anzi! Perché gli ha tolto 50! Vai! Sta scappando! C'è sia la vikinga che... Il tipo di colore! Sbam! Chi la lavi? King amici! Dietro la casetta! Guarda come scappa! No! No! È per un capello, eh! È tantissimo! Ci è mancato poco! A terra, uno! Dai, questa... Vabbè, questa sta... Guardala! Ma guarda come sta! Ma che fa! Musichetta epica! Per quest'ultima kill! 3v1! Potete anche trollarlo! Non ho trappole! Ragazzi! Tu ti fai il piccone! Sei un nabbo! Vediamo! Facciamo un giro di compagni! Depp non lo vedo! Mi sento io spartanio! Dai! Ma guarda il bug del mobile! Ma che è sta cosa! No, raga! Cioè, vedo un mici! Fermi! Con un piede storto! Il sin... No, tutto storto! Piede sinistro e gamba destra! E la testa che... Ma che è sta roba, raga! Vi prego, guardate la live! Ammettela, giusto! Che si diffonde per tutta la visuale! Vi prego, guardate la live! Mi sto sentendo male! Ma che è sta cosa! I love mobile! No, mi sento male! Ma oddio, è finito! Cioè, ti prego, guarda in alto, mici! Guarda in alto! Ma che è sta... No, mi sto sentendo male! Mi sto sentendo... Ragazzi, ragazzi! C'ho vede i giamperini con le blu? No, no! Cioè, non posso vedere una partita così! Devo cambiare per forza! Ma che è sta schifo! Ma che cos'è? Ma che è? Mezza mappa nera! Cambio, ragazzi, perché fa veramente schifo! Vabbè, mici è ufficialmente... Ma è proprio buggato! Cioè, se voi guardate mici... Guardate mici, sorti, girati verso mici... No, che ti spara! Ma che cos'è? Cioè, mici è buggato il gioco! Ma dov'è questo? Qua, davanti a me! Ragazzi, vi prego! Ditemi che stai guardando la partita! No, l'ho preso, non voglio! No, ragazzi! Grazie, vedimi, gli vado col piccone! Aspetta, aspetta, aspetta! Ma tanto è tutto buggato! Vedo mezza mappa nera! Io voglio dei trickshot! Musica etica! Inchiudilo! Ho la trappola! Sta succedendo l'apocalisse! Andiamo! No, no! Oh, no! No! Per sbaglio ho messo la giamperina! Eccolo! No, io lo rinchiudo e gli metto la giamperina! Guarda come scappa! No, raga, non lo uccidete! Ma sta andando nel buco nero! Perché è questa cosa? Con il carrello, con il carrello! Con il carrello! Con il carrello! Non so che sta succedendo! L'hanno ucciso! No! Che è successo! Tempo che è qua! I bug più assurdi! Eh vabbè! Non ho mai visto un bug del genere! Andiamo!